Dopo la rottura di una conduttura idrica in acciaio dell'acquedotto Giardino che ha provocato ieri cali di pressione e interruzioni della fornitura d'acqua in 19 comuni dell'area metropolitana, il danno è stato riparato e la situazione è tornata alla normalità. Lo ha reso noto l'ACA, la società che gestisce la fornitura idrica. Il tubo in acciaio del diametro di un metro si è rotto in località Casoni di Chieti. Il direttore tecnico Lorenzo Livello. Si è rotta l'aduttrice principale del giardino, l'acquedotto Giardino che parte da Popoli, che trasferisce nella vallata del Pescarese circa 1800 litri al secondo, parliamo di più o meno il 60% della dotazione idrica totale nostra. Quindi coinvolgimento di circa 19 comuni, 200 mila abitanti più o meno, da Tocco Casauria fino a Pescara, coinvolgendo anche Montesilvano, la parte litoranea di Montesilvano e quindi i centri principali, Spoltore, Chieti. Noi abbiamo avvisato questa problematica perché c'è stato uno sversamento di acqua copiosa in zona Contrada Casoni a Chieti. Abbiamo visto subito l'intervento da fare, programmato, con il personale ieri pomeriggio intorno alle 16-17. Abbiamo cominciato a scavare. L'intervento normalmente noi lo facciamo in presenza d'acqua, però in questo caso c'era una pressione notevole, circa 12 atmosfere. Per motivi di sicurezza abbiamo dovuto togliere l'acqua perché altrimenti il personale era a rischio e quindi dovevamo garantire le condizioni di sicurezza lavorative. Abbiamo tolto l'acqua, abbiamo avvisato tutti i comuni, 19 comuni coinvolti. Abbiamo tutto fatto in modo repentino per cercare di avvisare il più possibile tutti. L'intervento è andato bene, nel senso che c'era questa crepa sulla tubazione d'acciaio. In una zona probabilmente c'è stato un assestamento di terreno che ha creato questo problema. Abbiamo cominciato a togliere l'acqua ieri alle 19. L'intervento è durato circa tre ore. Alle 22.30 abbiamo finito l'intervento, abbiamo cominciato a rimettere l'acqua. Abbiamo rimesso l'acqua sia della sorgente giardino sia dei pozzi che le avevamo completamente spenti. Abbiamo rimesso l'acqua intorno alle 2.20 questa notte. Questa mattina diciamo che la situazione sta tornando pian piano alla normalità. Chiaramente le utenze che avevano il serbatoio autoclave non si sono neanche accorte perché il serbatoio ha svolto la funzione di polmone, proprio in questi casi. Oltre che essere utile per ridare pressione con la pompa che pressurizza la rete interna del condominio in caso di emergenza idrica. Il tanto conclamato impianto autoclave dell'estate scorse. Grazie.